Dato che si parte subito, allora, io purtroppo devo dire che è un pochettino che non ci gioco quasi un paio di settimane, quindi abbiate pietà e pazienza. Allora, potenziamenti, 700. Che cosa possiamo fare con 716 globi? Potremmo effettivamente prenderci la sfera gialla, oppure, cosa forse secondo me è un saggia? Questo qua. Facciamo esci. Allora, dato che io quel leone lì non me lo ricordavo, cioè non mi ricordo il suo pattern, è probabile che io faccia un po' di tentativi. Quindi, iniziamo la missione. Ci viene dato subito questo, questa animatriste. Non ho toccato nulla adesso. Il leone, o almeno quello che sembrerebbe il leone, è ancora qui a farci... ammazzate. Nooo, l'energia! Uffa! Niente, dovrò continuare così. Via, 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 via. Niente, devo cercare di capire. Niente, dovrò continuare così. Sì, vabbè, Mortal Kombat. Oh, ce l'ho fatta! fammi prendere qui. Ce l'ho fatta due minuti ancora. Perché due minuti? Fammi vedere un po'. Vabbè, proviamo ad entrare. Probabilmente è l'unica cosa che possiamo fare. a capire da dove si passa, magari. Qui è dove abbiamo affrontato il boss. qui. Bene, il gioco sta anche nel indovinare dove si va. Credo di non dovermi buttare di qui. qui. Siamo tornati dentro. Ancora? Che c'hai? lo scintillio della luce guida ti brucerà. nuovo percorso. Per ora scintillio della luce è la palla, l'anima che ho ricevuto. però non ho tempo. Perché i comandi sono invertiti? Ovviamente voi non potete vederlo. Ah, ma... qui. Non me la fa usare. Mannaggia te, non mi fai usare la... ci avrei scommesso, eh. Perché è qui. C'è una porta verde. Magari è qui. qui. Non me la fa utilizzare. Allora, qui c'è una porta. Ah, guarda un po'. Allora, io sono qui. Dovrei andare... Non qui, forse ho capito. Sono di fretta, mi spiace. Qui. Questa si aprirà con uno spirito guida. Sì, ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta. Missione compiuta. Ma dai, mi è durato niente. Ma come? Oh, sono contento, eh. Grazie. Meno male. Una missione corta. E anche abbastanza frustrante. Per quanto riguarda il leone malefico. Però... va bene. Lo accetto. Grazie. Grazie. Grazie.